Grimita la sala della biblioteca Albino a Campobasso per la presentazione del libro del giornalista Paolo De Chiara, il coraggio di dire no Lea Garofalo, la donna che sfidò l'andrangheta. Segno tangibile che non si sono spente la commozione e l'emozione suscitate dalla vicenda umana di questa giovane donna calabrese, vissuta a Campobasso per pochi mesi in regime di protezione insieme alla figlia Denise e dove subì anche un tentativo di sequestro non andato a buon fine. Una giovane donna gentile e coraggiosa che in nome dell'amore materno ha scelto di sacrificarsi pur sapendo che era un tranello aveva accettato di incontrare a Milano l'ex marito esponente del clan De Cosco perché voleva parlare degli studi della figlia. Da quell'incontro Lea non sarebbe mai più tornata a casa. Una donna forte, una donna che è morta per difendere suo figlio, una donna che ha avuto il coraggio di dire no, di non moltare la testa dall'altra parte, di denunciare gli affari sporchi, schifosi di questo clan calabrese dell'Andrangheta che portava avanti questi affari schifosi, spaccio di drogo, omicidi a Milano e in Viale Montello. Che ne dicono anche ex ministri dell'interno, a Milano l'Andrangheta opera da 40 anni. Di questa donna mi ha colpito un messaggio particolare forte. Lei da sola, senza l'aiuto di nessuno, senza l'aiuto dello Stato, è riuscita a sconfiggere un intero clan di Andrangheta. Oggi il clan Cosco che operava a Viale Montello, in Viale Montello a Milano, sono tutti in carcere. Sono stati condannati il 30 marzo 2012 all'Ergastolo. Mia sorella non è stata uccisa solo dall'Andrangheta, ma anche dallo Stato che l'ha lasciata sola. Parole dure quelle di Marisa, la sorella di Lea, tornata a Campobasso per l'occasione e per ricordare a tutti che c'è ancora una vittima, Denise, la figlia per la quale Lea si è sacrificata e che in due anni e mezzo ha cambiato domicilio già cinque volte, sempre sotto protezione. Denise oggi si trova in un programma di protezione proprio per quei valori che mia sorella l'ha insegnato. Anche lei ha la ricerca della verità perché vuole che chi ha ucciso sua mamma paghi per quello che ha fatto. Quindi Denise ha rinunciato a essere una ragazza libera, una ragazza di vent'anni che poteva vivere liberamente come tutti i ragazzi della sua età, poteva vivere la sua giovinezza, anche perché a Denise l'è stata tolta l'infanzia, l'è stata tolta l'adolescenza e ora di sua decisione si è presa l'impegno di chiedere giustizia per sua mamma. Quindi io sono orgogliosa della scelta di mia nipote. Il capoluogo regionale sta per dedicare una strada a Lea, lo ha assicurato il vice sindaco Cimino. Durante l'incontro a volerlo sono tutte le centinaia di persone che hanno firmato la petizione. La richiesta verrà avanzata tramite la Commissione Cultura, seguirà una delibera comunale e poi l'ultima parola spetterà la Prefettura.